E adesso vi mostriamo come noi facciamo gli struffoli alla napa. Abbiamo messo l'indicazione territoriale, perché si tratta di un piatto che ormai viene fatto ovunque. Diciamo che questa è la versione classica della preparazione. Ingrediente struffoli per 4 persone. 600 grammi farina bianca del tipo 00. 150 grammi scorze d'arancia candita. 300 grammi miele. 125 grammi cedro candito. 10 uova rallevate a terra medie. 3 arance. Zucchero semolato. Limone. Un piò di strutto strutto. Sale quanto basta. Preparazione e ricetta di cucina struffoli. Ricetta di cucina struffoli. Iniziamo la nostra ricetta di cucina versando la farina sopra la spianatoia. Mettete un pizzico di sale. Un cucchiaio abbondante di zucchero e la scorza grattugiata del limone. Mescolate. Fate la fontana e incorporate 8 uova intere. Due tuorli e 60 grammi di strutto e impastate. Continuate fino a quando non vedrete che la pasta stessa sarà sufficientemente liscia. A questo punto ricavate i bastoncini della dimensione di un dito e infine ottenete dei piccoli rombi con tagli trasversali. Passiamo quindi al secondo punto della ricetta di cucina degli struffoli. Dovrete quindi scaldare lo strutto sul fuoco e friggeteli pochi alla volta, avendo premura di scolare gli struffoli quando saranno di un colore oro chiaro. Fatto questo procedete a sversare il miele dentro una pentola e lo dovrete fare sciogliere a fuoco lento. Poi togliete dal fuoco e unite la scorza grattugiata delle arance. E quindi fatto questo procedete a mescolare e immergete gli struffoli dentro il miele. Aggiungete il cedro e le scorze d'arancia a pezzetti. Siamo giunti quindi all'ultimo punto della nostra ricetta di cucina. Dovrete mescolare con l'ausilio di un cucchiaio possibilmente di legno, senza schiacciare gli struffoli. Quando il miele sarà stato assorbito dalla pasta, mettete il composto su un piatto e con le mani umide, date una forma che sia possibilmente conica. Lasciate quindi riposare per un paio d'ore. Servite. E come sempre vi diciamo buon appetito a tutti da parte nostra. Difficoltà media. Tempo di cottura 20 minuti. Tempo di preparazione 20 minuti.